allora questa è la quantità di fendi pronta per la spedizione qui sono bancali a doppio cartone abbastanza alti non questi sotto sono di un'altra azienda solo questi allora per quanto riguarda fendi ecco tiriamo fuori alcuni ritagli e vediamo che allora la dimensione diciamo che c'è solo che ci sono delle parti da sforbiciare che sono queste sono e influiscono per circa un 15 per cento 20 per cento massimo del peso abbiamo fatto parecchie volte la prova allora non conviene sforbiciarle finché non si fa non si arriva all'utilizzo finale cioè conviene che le sforbici direttamente colui che poi dopo taglierà quello che ci si dovrà fare con questi ritagli di pelle perché tutto il resto tutto quello che viene fatto prima è un costo aggiuntivo che non non vale la pena collarsi da parte di nessuno 3 6 9 12 13 di questi bancaloni grandi pronti per la spedizione 6 7 8 8 9 9 10 11 11 11